Taxi gratis per andare a vaccinarsi anche nel mese di luglio e potranno farlo tutti gli aretini, anche over 60. Questo è il servizio potenziato dalla cooperativa Taxi aderente a confartigianato per le categorie fragili e vulnerabili che si recheranno così ai centri vaccinali del territorio comunale, qualora avessero difficoltà a raggiungerli o non potessero contare su parenti e amici. Il servizio sta discuotendo un enorme successo, spiega il responsabile marketing Pietro Fazzuoli di Taxi Arezzo. Un ringraziamento va dunque agli sponsor, al comune, all'ASL e a confartigianato per il loro patrocinio. L'appello che lanciamo è utilizzate questa possibilità. Le corse gratuite saranno fruibili sino all'esaurimento del contributo di sponsorizzazione. Basterà chiamare lo 0575 38 26 26. Un'auto arriverà in pochi minuti e una volta saliti sarà sufficiente mostrare un documento e la prenotazione cartacea del vaccino o l'SMS inviato dalla Regione. A quel punto il cittadino non dovrà corrispondere a alcuna somma e potrà beneficiare del servizio anche per il ritorno.